Sabato 15 aprile è stato inaugurato il nuovo ecocentro di Bressanvido. La superficie dell'area è stata ampiata di circa quattro volte rispetto al vecchio, oltre che riqualificata e rimodernata, includendo l'area H24 che consente di conferire ogni giorno a ogni ora vetro carta verde e ramaglie. La realizzazione è stata resa possibile grazie al sostegno della Regione Veneto con un contributo pari a 150 mila Euro e la fetta più consistente finanziata dai fondi PNRR su indicazione del Ministero dell'Ambiente. Sabato a tagliare il tipico nastro inaugurale sono stati il sindaco locale Luca Franzè e il presidente di Sorapis S.P.A. Samuele Zanartello, con loro il consigliere della provincia di Vicenza, con delega alla viabilità sud-est Marco Montan, il consigliere della Regione Veneto Nicola Finco, il senatore della Repubblica Antonio De Poli e Don Piero Miglioranza. Si tratta di un'opera di grande importanza per Bressanvido attesa da tempo, nella quale abbiamo creduto e nella quale abbiamo lavorato molto. Oggi possiamo consegnarla ai cittadini, certi del fatto che migliorerà la qualità della vita, rispettando un impegno preso e la promessa mantenuta.